Si confermano le criticità croniche delle foci dei fiumi nella provincia di Salerno. Su 14 punti analizzati, 6 risultano fortemente inquinati alla foce del Regina Minora Minori, del fiume Irno a Salerno, del torrente Asa Ponte Gagnano-Faiano, del canale di scarico a Marina di Eboli, capo di fiume a Capaccio e del fiume Testene ad Agropoli. Sono alcuni dei dati finali del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste campane, la storica campagna estiva di Lega Ambiente che naviga i mari in difesa delle acque e delle coste, presentati questa mattina nel corso dell'ultima tappa che si è svolta a Salerno. La situazione resta piuttosto immutata. Sui 14 punti analizzati nel Salernitano, ben 8 sono inquinati, di cui 6 fortemente inquinati e 2 inquinati, uno a Capaccio-Laura, l'altro alla foce del fiume Solofrone, al confine tra Agropoli e Capaccio. I dati sono stati presentati oggi in conferenza stampa, nel corso di un incontro alla presenza di Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania, Francesco Esposito dell'Ufficio Scientifico di Lega Ambiente Campania, alla presenza di Massimiliano Natella, assessore alle politiche ambientali del Comune di Salerno e di Michele Bonomo, membro della Segreteria Nazionale di Lega Ambiente. Le foci dei fiumi e altri luoghi simbolici per l'inaccessibilità al mare, come San Giovanni a Teduccio, sono diventati ormai malati cronici, ha dichiarato Maria Teresa Imparato, presidente di Lega Ambiente Campania. Questo è dovuto sicuramente ad una cattiva gestione del sistema depurativo ed anche ad un incremento della pressione antropica delle località di mare, ma anche da criticità che vengono dall'entroterra della regione che si amplificano lungo i corsi d'acqua che sfociano in mare. Dobbiamo investire sul sistema di depurazione e cercare i problemi a monte, le foci dei fiumi, risolvere le criticità ben note ai monitoraggi di Goletta Verde. Assolutamente sì, la Goletta è sempre una sentinella, sono 33 i punti campionati in tutta la costa della Campania, nello specifico 14 sono stati campionati nelle coste del Salernitano, quindi nel Salerno tutta la provincia. I dati sono particolarmente importanti, perché dei 14 punti del Salernitano ben 8 risultano essere oltre i limiti, nello specifico 6 sono fortemente inquinati e 2 risultano invece inquinati. I particolari iniziati rimangono sempre quelli che sono le foci dei fiumi, le foci dei torrenti, che risultano evidenziare quelle che sono le maggiori criticità che poi si riversano per anche la salute e la sicurezza dei bagnanti e non soltanto ambientale. Le foci dei fiumi portano con sé anche scarichi illegali? Sicuramente la natura dell'inquinamento può essere di vario tipo, il principale iniziato per noi rimane sempre quella che è la depurazione delle acque, quindi una depurazione che può essere scarsa, cattiva o comunque non adeguatamente fatta. È chiaro che c'è sempre un tema su cui sollevare la questione, che è anche quello degli scarichi illegali, che comunque è una problematica che colpisce un po' tutto il territorio. Al di là dei dati tecnici, il viaggio di Goletta Verde di quest'anno, che cosa hai evidenziato rispetto all'anno passato? Beh, diciamo che complessivamente, facendo un po' il resoconto per tutti quelli che sono un po' i dati della campagna, la fotografia rimane sostanzialmente simile. Non abbiamo grossi discostamenti rispetto a quelli che sono i campionamenti dello scorso anno. Si evidenzano alcuni che sono dei malati cronici del territorio, per il salernitano quelli che possono essere alcune foci dei fiumi, per il napoletano per esempio quello che può essere l'area di San Giovanni a Teduccio. Quindi ci sono delle aree che rimangono per noi critiche e che si confermano sempre critiche, non ci sono particolari discostamenti. Grazie. 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 Grazie.